musica 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 oh ehh ho fatto inverno da un granfura nella gornasca ahahah dove stai domani auguri, auguri piccoletta, la piccoletta di casa siamo rimasti così eh? fra te dov'hai? auguri con lui con tutti con lui, ma perché? perché auguri piccoletta perché prima? eh? perché? prima prima loro vabbè chi è? intanto io a lei a lui a Donnelli a Francesca e Aldo quando è il turno suo? 3 secondi ahahah ahahah ma questo ahahahahah ahahahahah che schifo vogliamo vogliamo il regalo ti sia piaciuta molte ti auguriamo altri 90 anni molto troppi ti vogliamo tanto bene con affetto ai tuoi cari riporti Alessandra Francesca ahahah 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 posso dire posso dire come quella del sangue no? scusami se non sono potuto venire dove non è? scusami come non è? nonna dove? scusami se non sono potuto venire ah ecco ma questa settimana è decisiva ci vedremo presto un abbraccio e un bacione Alessandro quando ci vedremo? scusami scusami la scatola tanta perle oh Dio ah la scatola buona ah copertura copertura siamo con l'FBI e insieme ai tuoi è una copertura oh è un macello non gli ripoti niente non gli ripoti niente tu hai mandato eh con le manuzze dai con le manuzze ah 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 ma che l'ha fatto questo? noi noi se devi leggere no io ce l'ho leggere più che altro si sente ahahah e ho capito è un'offesa è un'offesa come l'offesa? io non so beh però per prevenire lui poi glielo regaliamo poi glielo regaliamo agli 80 gli ho ahahah ahahah poi c'è più l'apparecchio l'apparecchio per chi? per sentirci un po' meglio dell'udito un pochetto un pochetto almeno un pochetto eh poi magari pure per vedere ma è un pochetto no pure tro mi rende proprio pure fastidio oh di qui di qui di qui ecco qua no oh la oh la la ciaffa 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 e la calza conservala conservala eh ahahah spiegate papero ti posso dire eh che devi fare? il quaderno ho salito hai capito? che cos'è? che cos'è? l'album ma di che cosa? è il mio premolo bravo la penna la penna una maniera una maniera una maniera una maniera un quaderno che è? che bianco un bianco un bianco no non è un bianco no hai toccato il bianco di bianco vai 90 vai allora 24 maggio 2012 ci vorrebbe un mago per un regalo speciale per la tua lunga vita costellata di salto in alto, di lunghe corse, di ansie, di gioie, di silenzi, di amori, di errori non confessati, di treni persi e di lanci nel vuoto. Ma il tuo paracadute ti è sempre aperto al momento giusto. Ed ora sei qui con noi a festeggiare. Grazie per i tuoi 90 anni, con i quali stai insegnando ad ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, che con la forza, con il coraggio, con la disperazione dell'amore, ce la possiamo fare. Sono 90 e la sua Anna se ne vanta e chissà se questa giornata si è accontentata, ma dal nostro cuore nasce un cuore solo, se volemo bene mamma e ti aspettiamo ai 100. auguri! Bello, 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 bello. Sei figlio e tua mamma. Sì, io sono mamma. Mi fanno cambiare in culla. Mi fanno cambiare in culla. Sì, sono bene. Grazie mille. Grazie a tutti.